Buongiorno, vi porgo il benvenuto da parte a nome dell'associazione Anima Confindustria e della fondazione Cantabile ETS, sono Valeria Chiadopiat. Questo evento si inserisce in una serie di eventi organizzati per la commemorazione il centenario delle vittime della fabbrica FOS, che è caratterizzata da un evento tragico accaduto appunto cento anni fa, in cui esplose la fabbrica di fiammiferi e persero la vita 21 persone, di cui 18 giovani e giovanissime operaie, anche bambine di 12 anni, la più giovane. Questo commemorare e ricordare vuol dire anche rimettere nel cuore e per noi è molto importante tenere viva la testimonianza di un evento che nel territorio è molto conosciuto, ma al di fuori lo è di meno. Però il senso della serie di eventi di commemorazione è di andare oltre il ricordo e di avere anche dei momenti di azione che guardino al futuro. E questo è il senso dell'evento di oggi, in cui vogliamo andare oltre la complessità di queste tragedie che sperimentiamo tutti i giorni e di cui sentiamo una frequenza che è difficile da valutare ma sicuramente ci preoccupa. Non ci sono risposte semplici a un problema complesso, questo lo sappiamo, e quindi il senso di un incontro di questo genere è vogliamo approfondire, vogliamo conoscere, confrontarci, riflettere, pensare a che cosa si può fare per fare di meglio. Per cui andare oltre a quello che sono i titoli dei giornali, gli annunci della politica e le semplificazioni. Lo facciamo, cerchiamo di farlo in un modo corale, questo era all'inizio il significato di corale, è di dare voce a più persone che o per esperienza professionale o per esperienza personale si interfacciano con problemi che hanno a che fare con le tragedie sul lavoro e gli infortuni quasi quotidianamente e lo facciamo con l'auspicio di dare voce il più possibile al maggior numero di persone, quindi chiediamo a tutti, me per prima, di essere sintetici e lo facciamo anche con una prospettiva transgenerazionale perché chi è più anziano ha visto, ha fatto, ha già commesso degli errori o è in grado di valutarli, passa il testimone a persone più giovani con l'auspicio che possano fare di meglio e di più di quello che abbiamo fatto noi. Per prima cosa vorrei dare la parola alla Presidente della Fondazione Troglia, Maria Carla Micono, che invito qua e che ringrazio per l'ospitalità. Buongiorno a tutti, a nome del Consiglio di Amministrazione porto anch'io il benvenuto. Siamo contenti di poter ospitare un convegno di questa importanza e permettetemi, sarò breve, ma ritengo anche importante che ci conosciate un po', specialmente chi non è di Cirie e non sa cosa sia la Fondazione Troglia. Però vorrei declinare questo aspetto rispetto a quello che è l'argomento del convegno di oggi. Anche stamattina facendo colazione ho sentito che sono morte due persone sul lavoro, un ragazzo di 23 anni che aveva davanti la vita, un signore di 63 che sperava di andare in pensione e di godersi un po' la vita dopo tutto quello che aveva lavorato. Ormai questi episodi sono quotidiani, purtroppo, e allora vorrei partire dal titolo di questo convegno, che lavoro è vita, ed è giusto, sintetico in queste due parole, ma queste due parole spesso non sono declinate così, lavoro è morte, e credo che questo sia il motivo per cui è necessario intraprendere delle iniziative rispetto a quello che la professoressa citava nella sua introduzione. Pensando un attimo a cosa potevo dire nell'introduzione, ho pensato anche alla nostra storia di fondazione, perché queste due parole, lavoro e vita, le ha avute fin dall'inizio, e credo che queste parole siano sempre state nei tempi, magari utilizzate chiaramente rispetto alla società di riferimento al periodo storico. Allora, questa fondazione è nata nel 1904, quindi 120 anni fa, per volere di una signorina di professione benestante, come si definiva nel testamento, che però ha avuto la capacità di vedere lontano, lei che era una donna, ha pensato alle bambine e alle donne della società di allora, specialmente quelle che abitavano nella Vallato, nei dintoni di Cirie, e che erano cagionevoli di salute, e quindi nella loro vita, se mai l'avessero avuta, non avrebbero neanche potuto lavorare. Allora ha lasciato i suoi beni, a partire da questa casa, che era la sua casa patronale, perché venisse realizzato quello che i ciriacesi chiamavano l'ospedaletto, in modo che bambine con non meno di cinque anni, dice il testamento, e non più di dieci, potessero essere accolte per essere curate nel fisico. Ma quello che è importante nella sua visione, quindi era riservato alle bambine, pensate 1904, ma quello che è stato importante, come lo è stamattina, che questo convegno è aperto a ragazzi, a giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro, è che questa signorina abbinò alle cure fisiche l'istruzione, pensando che questo anello debole della società di allora, se non avesse potuto nella vita realizzarsi come poteva, a causa delle malattie che c'erano, dovevano almeno avere un'istruzione, in un momento in cui nel 1904 l'istruzione obbligatoria era per tutti, quindi anche per i maschi, alla terza elementare. Quindi è stata un'idea illuminante, portare avanti un discorso del genere a partire da quegli anni. Non voglio farla lunga, vi dico solo che poi abbiamo realizzato anche le pari opportunità, prendo ai maschi, ma negli anni 70, dopo tutto l'episodio del secolo scorso. Dunque questo aspetto ci unisce perché vuol dire che da sempre la gente, le popolazioni hanno pensato come sia importante avere un lavoro per poter avere anche una vita dignitosa, ma soprattutto è importante avere un lavoro che non porti alla morte o che non porti ad un infortunio, perché noi parliamo di morti ma purtroppo dobbiamo guardarci intorno e molti infortuni gravi condizioneranno la vita delle persone se questo avviene nell'età giovani. Bene, credo che sia ora di lasciare un pochino quello che è l'essenza di questo convegno. Io vi saluto, vi faccio gli auguri di una buona mattinata e di un proficuo lavoro. Grazie a tutti.